Ci troviamo a Torre di Mare nel comune di Capaccio Pestum, alle nostre spalle c'è un percorso di guerra dove i ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Agropoli stanno facendo un'esercitazione con i militari di Persano e quindi un bellissimo progetto che adesso il Preside Bonfrisco ci illustrerà e ci spiegherà il perché di questa iniziativa per questi ragazzi che trovo siano davvero emozionatissimi e superattivi direi. Innanzitutto io voglio ringraziare il comando della caserma militare di Persano che ci ha ospitato qui oggi, ha riaperto il Lido perché oramai finita la stagione è chiuso quindi l'ha aperto apposta per noi e ci sta ospitando e ha messo insieme con i ragazzi un gruppo di militari e sono venuti qui per simulare lo sbarco della Seconda Guerra Mondiale che pare, è vero che nei libri di storia portano lo sbarco a Salerno, ma pare che il vero sbarco è stato qui tra Pestum ed Agropoli anche lo stesso poeta Gino Rossivairo lo scrive nel suo libro, quindi è documentato tutto questo quindi ringrazio il comandante della caserma di Persano, ringrazio tutti coloro che hanno partecipato all'organizzazione e in modo particolare le due professoresse che si sono rese disponibili a fare le bambine oggi insieme ai ragazzi, si sono divertiti tantissimo quindi abbiamo applicato una di quelle competenze europee, imparo ad imparare, imparo facendo quindi stamattina hanno simulato lo sbarco e oggi stanno facendo esercitazioni militari insieme ai militari il tutto nasce dal piano scuola estate, questi sono due pon storia e territorio che avevamo programmato per realizzarli nel mese di luglio invece nel mese di luglio sono stati realizzati altri dieci moduli e adesso stiamo completando quello che è il piano estate quindi il tutto è stato programmato per far sì che i ragazzi potessero studiare la storia facendola e sicuramente rimarrà impressa nelle loro menti perché hanno vissuto in prima persona la storia come lo hanno testimoniato proprio i ragazzi un nuovo modo di fare scuola però funziona Preside? certo, imparo facendo, non imparo dai libri è un po' come quando studiavamo noi che c'erano i vecchietti che raccontavano le loro storie di guerra le prigionie sul sagrato della chiesa, parlo della scuola dei miei tempi oggi praticamente abbiamo fatto questo, non si sono stancati, non si sono scocciati ho parlato già con alcuni di loro, sono felicissimi e hanno fatto tante cose insieme ai militari diciamo che gli insegnanti oggi sono stati i militari la cosa più simpatica è che tutti si sono mascherati con i materiali che usano i militari quando stanno in azioni di guerra e anche le professoresse non so se i mariti questa sera cosa ne penseranno, se riconosceranno le proprie mogli coinvolto in questa intervista anche le prof che oggi sono diventate anche loro per un giorno sono ritornate bambine tant'è che come vedrete dai trucchi che hanno i ragazzi ma anche le loro prof insomma si sono divertite da matti insomma in questa giornata allora cominciamo da Angelo che è uno studente dell'Istituto Comprensivo Gino Rossi-Vairo com'è stata questa esperienza? è stata un'esperienza bellissima, divertente molto che cosa è che ti è piaciuto di più? quello che mi è piaciuto di più diciamo che stare con gli amici e divertirsi imparare la storia però anche all'aperto e attraverso la testimonianza dei militari della caserma di Persano sì certo certo Irene un tuo giudizio su questa esperienza formativa scolastica all'aperto per quanto riguarda la storia che ha caratterizzato insomma il nostro territorio? certo attraverso questo PON legato al piano estate noi abbiamo voluto partire dalla microstoria e quindi dagli eventi accaduti nel nostro territorio per poi ricollegarli ai grandi eventi quindi lo sbarco degli aliati sulle nostre spiagge per poi parlare della seconda guerra mondiale e di tutto quello che è accaduto legato anche alle testimonianze, alle fonti perché noi stiamo analizzando anche le fonti storiche e letterarie perché anche attraverso l'analisi del romanzo di Gino Rossivairo Il sole delle nevi stiamo analizzando proprio la visione di Gino Rossivairo attraverso praticamente dello sbarco in veste letterarie diciamo così quindi i ragazzi si approcciano alla lettura di questi documenti di fotografie, di immagini, di testimonianze anche viventi perché faremo interviste a Reduci o a chi ricorda qualcosa quindi penso che loro non dimenticheranno mai questa parte della storia perché la vivono davvero Preside, allora sei soddisfatto di queste due ragazze insegnanti che oggi insomma si sono? Io volevo dire proprio questo non sono due ragazze, sono giovanissime ma sono le professoresse la professoressa Celso Irene e la professoressa Di Marco Adele mentre la professoressa parlava io pensavo a questo ma lo sbarco è avvenuto proprio qui dove noi siamo adesso va bene, quindi siamo in provincia di Salerno ma non a Salerno è venuto qui stando alle testimonianze, stando agli iscritti di Gino Rossivairo che è il poeta agropolesa a cui è stato intestato l'istituto comprensivo Gino Rossivairo lo sbarco è avvenuto su queste spiagge E abbiamo qui anche un'altra prof che è Adele che come vedete anche lei ben truccata per partecipare alla guerra Siamo soltanto che noi grazie allo studio della Costituzione i ragazzi sono consapevoli che l'Italia ripudia la guerra come uno strumento di offesa e quindi siamo qui soltanto grazie all'esercito che ci ha ospitati e supportati per instaurare nei ragazzi un senso di patriottismo e per spiegare loro che oggi le attività militari sono soprattutto aiuti umanitari guidati dall'ONU quindi i ragazzi hanno cercato di comprendere il valore dell'esercito o nella società contemporanea Bene, allora ascoltiamo anche le ragazze che sono sempre studenti della scuola dell'istituto comprensivo Gino Rossivairo di Agropoli Allora, quanto è importante studiare la storia all'aperto con un'esperienza del genere e poi quanto è importante che un prof possa diventare un ragazzo come voi Allora, diciamo che questa attività ci ha aiutato molto ad approfondire i nostri studi abbiamo studiato per arrivare qui la missione Avalanche cioè c'è stata fatta una preparazione abbiamo fatto anche dei cartelloni e oggi invece abbiamo visto come si svolgono le missioni umanitarie ma soprattutto l'addestramento a cui viene sottoposto l'esercito ogni giorno ed è stata un'esperienza bellissima, veramente interessante Sono d'accordo perché penso che imparare all'aperto è molto più divertente che stare a scuola seduti su un banco perché quando siamo in compagnia e facendo queste attività didattiche che abbiamo fatto oggi si impara anche con molto più piacere e abbiamo più voglia di imparare a prendere nuove cose E un voto alle prof? Dieci Dieci, dieci Dieci, dieci E la lode? La lode è... Dieci e lode Dieci e lode, pure undici, vabbè E abbiamo l'onore di intervistare il colonnello Troisi che oggi ha dato la possibilità a tanti studenti dell'istituto comprensivo Gino Rossivairo di Agropoli di fare un'esperienza unica di imparare la storia attraverso una simulazione vera e propria e con l'aiuto di tanti militari della caserma di Persano Sì, queste sono attività che l'esercito ricerca comunque che abbiamo potuto realizzare perché la catena di comando quindi la Brigata Garibaldi, il Comando delle Forze Operative Sud hanno autorizzato, approvato è per noi una ripetizione perché l'abbiamo già fatto con gli studi qua di Capaccio abbiamo dei bravi soldati con delle esperienze anche operative importanti alle spalle quindi abbiamo potuto anche travasare una parte di questa nostra esperienza ragazzi chiaramente nella scala giusta voglio dire però insomma vedo che c'è stata pure una bella risposta quindi li abbiamo visti pronti e voglio dire con approccio positivo all'esercito che non è soltanto visto come qualcosa insomma di duro, di forte ma anche insomma un'organizzazione umana che dà aiuto e supporto voglio dire anche ai ragazzi come loro Marisciallo come si sono comportati questi piccoli allievi? C'è qualche futuro aspirante insomma che potrebbe arruolarsi nel prossimo futuro insomma quando diventeranno un po' più grandi? I ragazzi hanno dato una buona risposta abbiamo iniziato con l'inno nazionale per farli entrare subito nel vivo e sin da subito hanno risposto benissimo qualcuno di loro ha fomentato anche particolare attenzione abbiamo fatto l'esercitazione con i ragazzi e anche loro hanno seguito dal vivo la cosa poi i vari step ancora di più e quindi hanno portato a termine tutte le attività quelle piccole attività e abbiamo lasciato nei loro cuori anche qualcosina di importante per un eventuale impiego anche come volontario Ecco possiamo lasciare un messaggio proprio a questi ragazzi che oggi sono stati con voi? Assolutamente sì l'esercito è un buon inizio per questi ragazzi per crescere in tutto Fratelli d'Italia Italia se resta Venemo Discipio Se cinta la testa Dove è la vittoria Le porga la chioma Che schiava di Roma Il Dio la creò Il Dio la creò Tra i belli d'Italia L'Italia se resta L'enermo discipio Se cinta la testa Dove è la vittoria Le porga la chioma Che schiava di Roma Il Dio la creò Siamo pronti alla morte Siamo pronti alla morte L'Italia chiamò Siamo pronti alla morte Siamo pronti alla morte L'Italia chiamò Sì! Grazie 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 Grazie